Consiglieri, prendete posto in modo che possiamo procedere all'apertura della seduta di oggi. Allora, salve a tutti, oggi abbiamo con noi il nuovo direttore del municipio settimo, che immagino potrà anche presentarsi brevissimamente, direttore glielo chiedo da dove viene, veramente breve, in modo che tutti i consiglieri possano sapere, anche le persone del pubblico, qual è stato, diciamo, e poi procederemo all'appello. Buonasera, Marcello Menichini, sono direttore dell'amministrazione Roma Capitale, dirigente da quasi 20 anni, ho assolto incarichi di direzione presso il segretariato generale all'ufficio Giunta e Consiglio, sono stato direttore del municipio 12, 14, primo e quarto, quindi questo è il mio quinto, mi sembra, municipio, sono stato direttore del Dipartimento di Attività Produttive e mi considero un direttore normale, non altro. Buon lavoro a tutti. Grazie, quindi lascio adesso la parola per l'appello, procediamo all'appello e vediamo se abbiamo il numero legale. Lozzi, Ariano, Biondo, Alabiso, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, Lazzazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Assente, Assente, giustificato, non sta bene, mi ha già telefonato. Stelitano, Stelitano, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli, Allora, 20 presenti, un assente ingiustificato e 4 assenti. Abbiamo il numero legale, possiamo procedere all'apertura della seduta. Nella seduta di oggi abbiamo all'ordine del giorno 4 punti, abbiamo 2 mozioni, entrambe presentate dal gruppo PD, una proposta di deliberazione e l'approvazione di un verbale, di un consiglio precedente. Informo anche i consiglieri presenti in aula che è stata depositata una mozione urgente ex articolo 58. e non so, possiamo fare qualche copia, giusto, le mettiamo qui a disposizione in modo che se vogliate leggerla. Sì, ci sembra assolutamente accettabile, quindi adesso facciamo qualche copia in modo che possiamo distribuirla e verrà messa alla... verrà messa... sì? Sì, adesso ve lo dico subito, un attimo che l'avranno presa loro. e l'oggetto è una richiesta urgentissima per il prolungamento della fascia oraria di accensione di tutti gli impianti termici delle scuole di ogni ordine grado del municipio settimo gestite dal Dipartimento Simu. E questa la tratteremo all'ultimo punto all'ordine del giorno, prima dell'approvazione del verbale. Allora, procediamo alla nomina degli scrutatori e gli scrutatori di oggi saranno la consigliera De Chiara, la consigliera Lazzazzera e il consigliere Toti. Bene, iniziamo quindi la presentazione del primo punto all'ordine del giorno ed è una mozione a firma dei consiglieri Vitrotti, Biondo, Ciancio, Gugliotta e Stelitano avente ad oggetto il monitoraggio sulla futura destinazione d'uso dello stabile ex Catasto sito a Cinecittà Est, tra Viali Antonio Ciamarra, Via Edoardo Martini e Viale Bruno Rizzieri. Quindi lascio la parola a uno dei firmatari per la descrizione dell'atto, per la presentazione. Chi dei firmatari? Consigliera Vitrotti, la consigliera Vitrotti a facoltà di parola? Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, intanto a nome del Partito Democratico diamo anche noi il benvenuto e un augurio di buon lavoro al nuovo direttore. Vado subito al merito della mozione. Immagino che sappiate che già nei mesi scorsi, perché la notizia era circolata già nel periodo preestivo, ma dal mese di ottobre si è verificato il trasferimento, così come appunto annunciato, dello stabile ormai ex Catasto che era situato nel quadrante di Cinecittà Est, specificatamente tra Viale Antonio Ciamarra, Via Edoardo Martini e Viale Bruno Rizzieri. È ovvio che i cittadini residenti, parte anche del comitato di quartiere, insomma hanno più volte chiesto quale fosse appunto la destinazione, il futuro della destinazione d'uso di quell'immobile, anche con una certa preoccupazione, ma in realtà diciamo poco legata al cosa succederà nel caso non ci fosse mai qualcuno che non si inventa il trasferimento di qualche richiedente asilo sul nostro territorio, cosa che purtroppo è già successa e ha creato anche degli allarmismi, talvolta anche infondati. Ma proprio perché si va a concentrare in quel quadrante particolarmente, quindi anche andando a toccare, se vogliamo, gli standard urbanistici e come specifichiamo qui anche il mix di funzioni presenti in quell'area, che sono commerciali, che sono residenziali, perché è ovvio che nel corso degli anni, avendo lì presente un ufficio ovviamente che richiamava l'attenzione di gran parte della cittadinanza non solo circostante ma di tutti i cittadini romani, si è alimentato anche un circolo commerciale lì intorno, cosa che ovviamente in questo momento purtroppo viene meno. Il futuro dell'immobile, seppure abbiamo notato perché abbiamo visto che non è di proprietà del Comune di Roma ma è della società FIP e siamo andati a vedere sul sito del Comune di Roma, c'è una parte che ancora risulta intrattativa e un'altra che non è ancora stata venduta, però credo che come amministrazione di prossimità vadano reperite quelle informazioni che sono necessarie non solo a dare la giusta informazione alla cittadinanza ma anche per tutelare quel quadrante, perché nel caso venisse meno, cosa che non auspichiamo, la vocazione d'uso di quegli immobili, tutto quello che potrebbe venire se non governato, se non monitorato, se non tutorato potrebbe provocare uno stravolgimento appunto anche degli standard urbanistici del quadrante di Cinecittà Est. Nella stessa situazione e quindi nello stesso quadrante si è verificato anche come abbiamo specificato il trasferimento degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, quindi è ovvio che delle trasformazioni sono già avvenute, i cittadini sono preoccupati perché il cambiamento purtroppo preoccupa e soprattutto preoccupa quando non viene seguito da una corretta informazione e per questo come Consiglio del Municipio lo sottoponiamo a tutti, però chiediamo alla Presidente e all'assessorato competente di attivarsi presso le sedi competenti al fine di acquisire le informazioni circa la destinazione d'uso prevista per lo stabile ex catasto situazione Cinecittà Est a seguito appunto del trasferimento e a monitorare la situazione a tutela dei cittadini residenti nel quadrante di Cinecittà Est, degli equilibri funzionali del quartiere e del mantenimento della destinazione d'uso degli immobili in oggetto. Sottoponiamo all'attenzione dell'Aula diciamo anche così una preoccupazione che abbiamo accolto dalla cittadinanza, quindi mi auguro che insomma si vada verso un'approvazione che accolga il favore degli altri consiglieri. Grazie. Grazie consigliera Vitrotti, ci sono interventi? Consigliera Lazzanzera, facoltà di parola. Benvenuto anche da parte del Movimento 5 Stelle al nuovo direttore. E niente, io rispondo sul catasto. Allora, comunque la nostra Presidente già si era impegnata a chiedere informazioni, quindi un consiglio forse era meglio fare direttamente un'interrogazione anziché una mozione. Comunque, noi, io personalmente mi sono recata in questo stabile per vedere la situazione, per quello che si diceva in giro, insomma, le voci, le preoccupazioni appunto che si riferivano. In realtà ho trovato due società che, la Argo e la Urbe, che sono due società di guardiania. Chiaramente questa struttura è una struttura privata, quindi le persone, insomma, o le società si sono ben guardate da controllare questa struttura. Quindi hanno messo questa vigilanza, in più hanno rinforzato tutti i cancelli, tutte le entrate, hanno messo degli allarmi, non ci sono, come si diceva, vetri rotti, non ci sono dentro persone che non ci dovrebbero essere, ma c'è l'ufficio della forestale che è attivo. Quindi noi continueremo, anche perché anche noi siamo sensibili a che tutto vada e proceda per il meglio, insomma, per i cittadini e soprattutto, insomma, per tutti. Comunque, attualmente è tutto sotto controllo, la destinazione, essendo un privato, noi non possiamo saperla, anche se ci terremo costantemente informati, insomma, cercheremo di sapere. Per ora è tutto sotto controllo, è tutto a posto, insomma, questa risposta. Ci sono altri interventi? Considera Cercuoni. Buongiorno a tutti, ben arrivato direttore. Ci auguriamo una proficua collaborazione noi di Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda l'atto, mi sembra una mozione consona e importante, in considerazione del fatto che purtroppo questo municipio ha visto troppo spesso degli stabili abbandonati e delle situazioni che anche inizialmente venivano monitorate per poi essere abbandonate dallo stesso privato, vi ricordo, via Sisi. Quindi, per evitare che i cittadini poi debbano subire un disagio come la situazione di via Sisi, io credo che sia utile approvare questo tipo di mozione e soprattutto continuare a monitorare la destinazione d'uso. Dobbiamo capire noi su un quadrante come quello di Cinecittà Est, che è poi gravato da tante situazioni anche complesse, cosa ci vogliono fare con uno stabile che poi è uno stabile grande, cioè uno stabile che può contenere comunque, che può avere diverse destinazioni. Rispondo solo a chi mi ha preceduto su un piccolo argomento, che è quello delle interrogazioni. Purtroppo sono due mesi che anche io attendo risposte alle interrogazioni, così facendo si rischia di avere un surplus di mozioni e di atti portati in consiglio perché alle interrogazioni non viene risposto. Questo non è una critica, è magari un sollecito, però è per questo e oltremodo io ritengo che sia una mozione, seppur sintetica, molto precisa nel richiedere degli interventi da parte degli organi competenti. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Toti? Anche noi facciamo gli auguri al nuovo direttore. Quello che chiaramente va detto, a parte che io ricordo che facemmo un incontro fra tutti i candidati presidenti e parlammo anche di questo a Cinecittà Este, le preoccupazioni da parte dei cittadini c'erano già allora nei mesi precedenti dell'estate e comunque è giusto un richiamo alla vigilanza rispetto a occupazione abusiva in cui a degrado mi fa piacere del discorso della vigilanza, le due istituti di vigilanza che provvedono praticamente alla difesa del luogo e comunque ribadiamo la tutela del quadrante e la vigilanza da parte nostra senz'altro e auspichiamo che ci sia la possibilità e comunque vengano strutture utili, servizi utili per i cittadini di Cinecittà Este. Altre interventi? Ah, il consigliere Giuliano? No tranquilli, il consigliere Giuliano? Non litigate per questo? Benissimo. Allora il consigliere Guido e poi il consigliere Giuliano. Grazie Presidenti, cittadini e colleghi. Allora sulla natura dell'atto è vero questa doveva essere un'interrogazione a mio avviso, ho sentito che si presentano mozioni perché le interrogazioni vengono calendarizzate, mi pare che le interrogazioni hanno avuto una risposta in un tempo brevissimo mai visto nelle passate amministrazioni, quindi su questo io non aggiungerei c'è davvero nient'altro. Per quanto riguarda la situazione dell'ex catastro, i cittadini erano legittimamente preoccupati fin da quest'estate, da quando quest'idea e anche di occupazione eccetera aveva preso piede ed è da allora che la Presidente Lozzi infatti sta monitorando la situazione, poi come sappiamo subito dopo l'estate c'è stata l'ufficialità dell'abbandono dei locali da parte della loro catastro e apprendo dalla consigliera Lazzaldra che mi ha preceduto che attualmente l'immobile è presidiato anche giorno e notte da due società private, l'immobile anche è privato, nella mozione che io qui riaggiungo forse è perché il Partito Democratico vuole avere uno storico di questa richiesta che io ribadisco era una legittima interrogazione. Per quanto riguarda invece la destinazione d'uso non si hanno notizie in questo senso e io ripeto che questa domanda la Presidente Lozzi la sta facendo già da prima dell'estate, a livello comunale non si sa niente attualmente, se poi sarà interessata da centri di accoglienza e o altro, questo naturalmente non riguarda né il comune né il municipio benché meno, il comune non riguarda la regione, ci riguarda probabilmente il ministro dell'interno, quindi siamo a un livello molto alto, senza contare che l'immobile è ovviamente privato, quindi poi dipende anche a chi la proprietà attuale decide di vendere qualora voglia vendere, ma penso sia quello che vogliono fare in questo senso. Per quanto riguarda invece la legittima creazione di un centro per i rifugiati eccetera, io vorrei fare presente che essendo questa una notizia, se arriverà, anche se ancora non abbiamo notizia di natura ministeriale e sapendo che al governo ovviamente c'è il duo Renzi e Alfano, forse il Partito Democratico faceva addirittura prima chiedere per via interna piuttosto che presentare una mozione qua, perché avrebbero avuto maggiore fortuna probabilmente in questo senso. Ho detto questo, l'argomento come già ho precisato in presenza è molto sentito, stiamo già vigilando in questo senso dall'estate come ho già ribadito, pertanto l'ulteriore richiesta di informazioni in merito non ci sembra uno scoglio insormontabile, anzi noi continueremo a vigilare in questo senso e quindi mi sento anche di esprimere non solo il mio parere personale ma anche quello del momento 5 stelle essendo capogruppo. Vi ringrazio. Ci sono altri interventi? Ah è vero, il consigliere Giuliano. Grazie Presidente, oggi non le sto, non sto nei suoi pensieri perché si scorda facilmente, vabbè, me ne farò una ragione. Sì doveva essere un'interrogazione questa effettivamente, però io devo dare atto che in questo caso il PD con questa mozione secondo me ha fatto cosa utile, perché ha fatto cosa utile? Perché non è che nessuno controlla il municipio, non è che l'amministrazione, il municipio, la Presidente, la Giunta eccetera non si interessano, non ci mancherebbe altro, però non è che tutto torna in tempo reale, quindi qualunque tipo di iniziativa, attività di questo tipo abbiamo appreso ultimamente che arrivano tardive, no? Come per esempio è successo per cortocircuito, la Presidente ha detto che l'ha saputa di sede mattina, quindi voglio dire non è che ti avvertono prima. Allora, se noi dobbiamo fare una sana e buona politica, che è quello lo strumento che non ci spetta, io penso che questa mozione vada in questo senso. Allora dire, ricordarci un po' a tutti noi, sì si poteva essere interrogazione, ma ricordarci a tutti noi di avere un occhio di riguardo, visto che la problematica non è che si esaurisce in questo periodo, che potremmo essere un municipio avendo strutture disponibili, quindi anche come l'ex America Express, per capirci, lo è stato per poco tempo l'hotel Cinecittà, non ci dimentichiamo, quindi dovevano arrivare lì 100 persone un anno fa e l'abbiamo saputo sempre all'ultimo, si vocifera anche di via Camporomano l'albergo che sta via Camporomano, insomma che potrebbe essere appetibile, il supermercato che chiude, sempre lì a via Camporomano, il PAM, c'è comunque la fobia del fatto che adesso potrebbe essere utilizzato qualunque tipo di struttura. Ma come diceva qui il collega, non è che è difficile neanche il fatto che sono strutture private e quindi ci stiamo tranquilli, no, il privato è stato preso di mira, esempio come dicevamo prima, via Nola, dove c'era la motorizzazione per chi ha sommato l'età mia, si vendeva lì la patente, eppure era un privato eppure è stato occupato diverso tempo. Ora, è ancora occupato, esatto. Per cui ben venga questa mozione, ben venga il fatto che siamo tutti coscienti di avere comunque un ruolo politico istituzionale e dobbiamo tutti contribuire affinché notizie su notizie, controlli, eccetera, il territorio possa essere comunque messo sotto a lente di ingrandimento e quindi la Presidente possa avere questo indirizzo maggiore che avrebbe comunque avuto, perché non è che si può disinteressare di questa roba, ma chiedere al tavolo con la Prefettura, chiedere al tavolo con la Polizia di Stato, con il Prefetto, eccetera, di essere perlomeno messa a conoscenza in tempo utile prima, no, che si fanno le operazioni e poi vengono, come si dice, si vengono messe a conoscenza all'ultimo secondo, no, utile. Io questo penso che sia comunque interessante e con la mozione è che il Municipio deve essere al centro di questo dibattito anche costituzionale, anche diciamo da punto di vista legale della Polizia di Stato, Carabinia, eccetera, il Presidente deve essere messo a conoscenza di tutto quello che potrà o potrà arrivare in questo Municipio. Quindi, mozione da questo punto, secondo me, si porta dietro questo meritevole impegno da prendere come Municipio. Grazie. Grazie a lei. Vedo, sì, benissimo, il Consigliere Ciancio ha facoltà di parola. Grazie Presidente. Consiglieri, non ho capito se il gruppo Movimento 5 Stelle ha condiviso e ha accolto pienamente quanto è espresso nella mozione oppure la considera come un'interrogazione, perché se guardiamo attentamente la parte finale, sugli equilibri funzionali e sul mantenere la destinazione d'uso attuale non è solo un'interrogazione dove uno prende, cioè interroghiamo l'assessore e ci dà una risposta. Qui è un impegno più importante quello di mantenere gli standard urbanistici che esistono, ne abbiamo parlato tutta la mattina rispetto ad altre questioni. Quindi io ritengo che un bene così grande, sono 77.700 metri cubi che potrebbero diventare 24.281,21 residenziali, metri quadrati, con destinazione attualmente B4, cioè è un impegno importante per un'amministrazione che voglia tutelare bene quello che, ahimè forse è incautamente qualche volta è successo, la motorizzazione è un esempio. Quindi proprio per questo io non ho colto bene se la mozione è di interesse oppure, come dire, se veniva portata in altra forma, quella dell'interrogazione poteva suscitare un interesse diverso. Dobbiamo arrivare a un obiettivo che è quello che i consiglieri che mi hanno preceduto hanno raccontato e per questo sostengo e ritengo che la questione è limpida, lì c'è un quadrante nuovo, c'è un bene che è destinato ad uffici e tale dovrebbe rimanere. E quindi un'amministrazione che guarda e che non vuole ritrovarsi in situazioni in cui qualcuno prevarichi dall'alto, giustamente monitorare e guardare al futuro. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ciancio. Ci sono altri interventi? Consigliere Candigliota? Grazie Presidente. Allora, no, io partirei intanto, vabbè, chiarendo i dubbi che si pongono. Intanto possiamo anche eventualmente ringraziare il PD che ha dato anche un buon input, nessuno nega questo. Siamo sempre stati dell'opinione, come abbiamo già visto anche con il consigliere Giuliano che ha presentato una mozione, noi siamo stati a favore, che siamo a favore per le idee, non per l'appartenenza politica, di questo non ci è mai interessato. Siamo per i temi, quindi se questo è un tema di comune interesse, certo, ben venga. Non è che uno dice, a prescindere per partito preso, non è così. Certo è che poi ci si dialoga e uno dice, magari sarebbe stato possibile un'interrogazione? Sì, anche. Magari portarla in commissione? Va benissimo, nel senso, le formule ce ne potranno essere tante. Certo è che mi stupiscono poi alcune affermazioni quando si dice che non si dà abbastanza spazio alle interrogazioni, quando poi spesso e volentieri se ne fanno fare anche 5-6 facendo show, insomma, no? Quindi voglio dire, e quindi questa qua forse non è una corretta interpretazione della cosa. La cosa che più ci interessa sicuramente è lo scopo per cui vi vengono richieste determinate cose, solo che c'è una piccola preoccupazione, perché se, come diceva la consigliera, è stata e quindi ha visto una situazione abbastanza tranquilla, emergono determinate cose, ovvero delle voci che eventualmente sono state risentite sotto questo profilo, perché se no non credo perché, se non ci fossero state queste voci, non credo neanche che avreste presentato questa mozione. Allora la domanda che mi pongo, e bisogna stare attenti anche a porsi queste domande, è se dietro questo non c'è altre situazioni di speculazioni, ovviamente che non devono avvenire per forza dal Partito Democratico, io sto ipotizzando, ecco. Quello che dico io è, non vorrei che qualcuno strumentalizzasse una situazione abbastanza tranquilla solamente per creare caos. Tutto qua. Detto questo, le iniziative che versano su un argomento importante che comunque dà una certa anche garanzia che dei beni vengano comunque tutelati, credo che sia fondamentale. Poi l'operato, se venga fatto con un'interrogazione o meno, questo è opinabile. Certo, forse sarebbe stato molto più sbrigativo e forse qualcuno ci avrebbe potuto anche dare, parlo in questo caso degli assessori di competenza, avrebbero potuto dare anche delle risposte in più, oltre quelle della consigliera. Forse sarebbe stato anche più adeguato. Però vabbè, ripeto, è opinabile, è opinabile e comunque suppongo che sia comunque di fatto una cosa fatta bene e quando si ragiona sui temi siamo sempre ben accetti a cogliere queste proposte. Grazie. Sì, la consigliera Biondo ha facoltà di parola. Grazie Presidente. Sì, a seguito dell'intervento del consigliere Candigliota che ringrazio, volevo infatti precisare e penso che fosse quello che voleva dire lui nonostante i giri di parole e i messaggi subliminali che ogni volta non esita a riservarci, ma anche questo diciamo è il bello della diretta di avere Candigliota in consiglio, è che appunto non ci sembrava di aver in nessun modo offeso o messo in discussione l'attenzione della Presidente o degli assessori o della maggioranza di questo municipio rispetto a questa problematica, tant'è che la mozione impegna semplicemente ad attivarsi presso le sedi competente per acquisire informazioni, che è esattamente quello che stiamo chiedendo e io ringrazio anche la consigliere alla Zazzera per aver fatto un sopralluogo, ma è chiaro che non può essere sufficiente il mi sembra che la situazione sia tranquilla per rispondere ad una mozione su un tema che ci viene sollecitato da un quartiere, quello di Cinecittà Est di Via Ciamarra, che come sapete è un quartiere molto popolato di questo municipio e quindi vi ricordo che il rapporto con i cittadini non è un esclusivo appannaggio del Movimento 5 Stelle, quindi innanzitutto vi chiederei quando qualunque consigliere premette che la mozione o qualsiasi atto è presentato sulla base di una richiesta dei cittadini, di rispettare innanzitutto la richiesta dei cittadini e quindi chiediamo semplicemente di acquisire informazioni e di monitorare la situazione, non c'è niente di rivoluzionario, semplicemente chiediamo che la Presidente si impegni in questo senso e che magari in futuro venga a relazionare su questo tema, se non lo farà diciamo autonomamente, cosa che io non penso che succeda, a quel punto certo il Partito Democratico presenterà un'interrogazione. Grazie. Ci sono altri interventi? Non mi sembra ci siano altri interventi, passiamo all'espressione di voto. Allora, la consigliera Cercuni? La Fratelli d'Italia voterà favorevolmente. Una piccola precisazione, perché sono stata chiamata in casa ma non ho ritenuto opportuno fare un intervento per... effettivamente, poi mi dica se sbaglio, ci sono delle interrogazioni in sospeso, almeno 3-4 interrogazioni in sospeso da fine settembre, io mi riferivo in particolare a quello, quindi è vero che in alcuni casi ci sono state, in altri casi purtroppo stiamo continuando ad andare avanti e non sono solo quelle riguardanti la CEA, ma questo non voglio aprire l'argomento, era solo per chiarire, visto che mi dicevano che erano state fatte tutte quante e c'erano stati degli show, mi sembra anzi che anche nelle interrogazioni sono stati molto gentili gli assessori e le risposte sono state altrettanto... Sì, una sola cosa vorrei dire, forse ho capito male, non è stato detto che sono state risposte tutte quante, è stato semplicemente detto che sono state risposte in tempi brevi e visto che siamo qui a precisare, sì è vero, lei ha ragione, no no io le sto dando ragione, ce ne sono 3 ancora in sospeso, è vero, io ogni volta mi faccio carico di vedere se sono pronte, ci sono 3 in sospeso perché gli uffici competenti non hanno ancora dato risposta, mentre le altre 11 che sono state presentate sono state tutte risposte perché erano in carico agli assessori, quindi questo è stato fatto velocemente, quindi questo ci tengo a precisarlo. Non era una critica, era solo una puntualizzazione, comunque rispetto all'atto presentato dal Partito Democratico voteremo favorevole. Perfetto, allora ci sono altre espressioni di voto? Sì, consigliere Avitrotti. Grazie Presidente, ovviamente il Partito Democratico l'ha presentata e voterà favorevolmente, volutamente abbiamo scelto di presentare una mozione, non è che ci ha sfuggito, per dare forse quello strumento in più che un consiglio con la sua approvazione può dare alla Presidente e all'assessorato competente. Quindi sempre per richiamarci a quella sana collaborazione sulle questioni e stando al merito delle cose, ci siamo appunto messi a lavorare per offrire a una discussione appunto oggi in aula e per offrire soprattutto uno strumento che rafforza eventualmente le posizioni di chi andrà o siederà su quel tavolo con un mandato in più che è quello dei consiglieri eletti in questo municipio. Grazie. Bene, consigliere Avitrotti. Il consigliere Totti. Ho già detto che la lista dei popolari, la lista civica voterà a favore di questo. non c'è bisogno, ripeto, per l'ennesima volta, noi non facciamo, come ha detto il consigliere di Iota, cioè la stessa cosa, non facciamo praticamente pregiudiziali rispetto a chi ha presentato la mozione, abbiamo fatto nei confronti di 5 Stelle, ci hanno detto di essere trasversali, noi lo saremo pure oggi. Voglio dire perché voteremo questa mozione che ha presentato il diritto, lo facciamo anche su mozioni presentate da Fratelli d'Italia. Importante che sia una cosa utile, fondamentale per i cittadini del territorio. I cittadini del territorio, in questo caso, come i cittadini cittadestri, che vivono una difficoltà forte in termini di servizi, ma non soltanto oggi da anni che godono di servizi insufficienti nel loro territorio. Ecco, appesantire questo con preoccupazioni come, e per me ci sono, perché voglio dire, noi siamo stati umiliati nel territorio da occupazioni abusive nel passato ancora più forti. Ecco, io ricordo Vianoto che è stata liberata, poi è rioccupata nuovamente, nonostante fosse anche questa presidiata, perciò ecco rispetto a un'occupazione abusiva noi siamo preoccupati e siamo per una vigilanza forte rispetto a questo e io mi auguro e senz'altro ci sarà anche da parte dell'istituzione municipale una vigilanza forte rispetto al tema di una nuova occupazione del nostro territorio. Grazie, perciò il voto a favore. Sì, consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, una battuta, siamo in dichiarazione di voto, naturalmente il Movimento 5 Stelle voterà a favore per quanto espresso in precedenza. Poi una semplice battuta sulla questione interrogazioni, semplicemente nel mio intervento precedente, prima ho riferito che le interrogazioni in questa gestione amministrativa vengono fatte velocissimamente, anche perché ne sono state presentate un bel numero, a differenza delle passate amministrazioni. Io non ho mai detto che sono state date risposte a tutte le interrogazioni, ma che si fanno molto, ma molto più velocemente di prima. Anche, e ribadisco, visto il numero pervenuto fino a questo momento. Grazie. Benissimo, tutte le dichiarazioni di voto sono state espresse, possiamo quindi procedere alla votazione. Favorevoli? La mozione è stata approvata all'unanimità. Passiamo al punto 2 all'ordine dei lavori di oggi, ed è la mozione a firma dei consiglieri Vitrotti, Biondo, Ciancio, Gugliotta e Stelitano avente ad oggetto bonus nido e voucher babysitter. Allora, anche qui procederei lasciando la parola adesso alla consigliera Vitrotti per l'illustrazione. Grazie consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Abbiamo pensato questa mozione, in realtà l'abbiamo presentata il 7 novembre, poi oggi invece abbiamo anche letto che è stata ripresa da un quotidiano. Non so se sapete, però c'è la possibilità già da qualche anno di poter accedere al momento del fine diciamo del periodo di maternità e in alternativa al congetto parentale, la possibilità di richiedere voucher appunto o bonus nido da poter utilizzare per l'acquisto di servizi o di babysitter appunto come un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia oppure dei servizi privati. Questo beneficio è stato prorogato per l'anno 2016 nella cosiddetta legge di stabilità e si è oggi in discussione per poterla riapprovare nella nuova stabilità del 2017. Dall'inizio di settembre, quindi prima che iniziasse l'anno scolastico, c'era stata una ampia rassicurazione sul fatto che come ogni anno sarebbero avvenuti i rimborsi delle famiglie che sono state definite titolari e quindi hanno avuto il riconoscimento dei requisiti per poter appunto beneficiare di questo bonus e contestualmente poi visto che non è un'erogazione a carico del comune ma viene erogato dall'Inps solo in seguito appunto questo avrebbe risarcito il comune e in ogni caso l'utenza, la cittadinanza non avrebbe riscontrato questo problema. Invece purtroppo ci sono pervenute delle notizie che invece registrano un'anomalia e anche una preoccupazione perché in realtà non si sta provvedendo e ovviamente siamo nel mese di novembre quindi l'anno scolastico è ampiamente cominciato non si stanno vedendo riconosciuti diverse famiglie o quantomeno tutti quelli che avevano fatto la richiesta e sono risultati idonei perché l'Inps ha detto che avevano i requisiti, non si trovano di fatto riconosciuto un diritto che è una legge dello Stato quindi un rimborso in termini economici sui quali le famiglie ovviamente hanno fatto però i conti e quindi molti probabilmente sono stati mossi anche da quel beneficio economico per poter procedere all'iscrizione alle scuole. Pertanto sta avvenendo un qualcosa che non riusciamo a trovare delle spiegazioni chiare perché sembrerebbe che l'Inps non erogherà il comune quanto già riconosciuto con atti ufficiali agli utenti che quindi potrebbero risultare debitori verso il comune delle stesse cifre. Roma Capitale sembra però non si sia accreditata o comunque notizia di oggi quindi su questa non posso non so se ci sono diciamo delle, è una fonte certa perché appunto parliamo di quanto appreso dai giornali invece ci sarebbe un problema di cassa e quindi non si possono erogare quei fondi che al momento però stanno purtroppo in un ennesimo rimpallo di responsabilità danneggiando centinaia di famiglie che in questo momento stanno aspettando un diritto appunto come dicevo prima definito da una legge dello Stato. Pertanto cercando di evitare ovviamente alle famiglie di stare nel rimpallo delle responsabilità e purtroppo di subire la situazione chiediamo alla Presidente e all'assessore competente di intervenire presso le strutture competenti al fine di acquisire informazioni in merito all'erogazione e alla fruizione del bonus che non vengono concessi da Roma Capitale ma da Inps e di verificare se la questione sia legata al mancato rinnovo di una convenzione o sia legata a un problema contabile di cassa al fine di evitare non solo un danno alle famiglie ma probabilmente anche alle casse del Comune di Roma perché quelle famiglie che si vedono giustamente sottratti un diritto potrebbero magari avvalersi invece di un riconoscimento proprio perché a loro non viene invece riconosciuto un diritto da una legge dello Stato. Per tutto questo e anche per evitare ulteriori contenziosi che potrebbero danneggiare ormai le casse vuote del Comune di Roma però chiediamo che si intervenga nuovamente perché nel caso questo non avvenisse o quantomeno non avvenisse in tempi rapidi purtroppo quella città a misura di bambino che penso ognuno di noi vorrebbe vedere trasformata forse questa città o quantomeno che ognuno di noi si immagina siamo veramente lontani ad anni luce e soprattutto registriamo una forte preoccupazione che deriva da tutte quelle famiglie che già hanno sul loro carico una crisi importante che purtroppo quando mancano i riconoscimenti anche minimi che dovrebbero essere garantiti e sui quali le famiglie si poggiano vengono meno delle certezze sulle quali l'amministrazione però non può scherzare perché scherziamo sulla pelle delle persone. Per tutte queste ragioni sottoponiamo all'Aula l'attenzione di tutti la mozione che abbiamo presentato come gruppo del Partito Democratico e ovviamente come è valso prima vale anche adesso è quello di aiutare nel caso fosse necessario dare un contributo, uno strumento in più perché si possa sanare una situazione che sta veramente coprendosi di ridicolo. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Consigliere Giannone, la facoltà di parola. Sì, grazie Presidente. Allora, dunque abbiamo letto questa mozione e ci troviamo abbastanza d'accordo nel ritenerla utile e quindi ribadisco quello che diceva il mio collega Candigliota che sui temi noi ci siamo per cui siamo assolutamente interessati a seguire le questioni quando entrano poi nel merito e hanno un contenuto. e quindi questa mozione rappresenta quella che la funzione politica dovrebbe avere nella società quindi diciamo in qualche modo farsi carico di quelle che sono le problematiche analizzare eventuali inefficienze pare che questo capisco dal testo della mozione eventuali inefficienze dicevo dell'amministrazione pubblica e quindi eventualmente di porvi dei rimedi. Le informazioni contenute diciamo sono un po' generiche però comunque riteniamo che sia comunque una cosa utile anzi doverosa approfondire la situazione visto che ha come ha impatto su cittadini potrebbe avere anche impatto abbastanza rilevanti portando addirittura disagi finanziari di un certo tipo. Per cui la cosa che diciamo siamo sostanzialmente favorevoli ad approfondire e capire cosa sia realmente successo e se c'è qualcosa che come istituzione territoriale possiamo fare la cosa che leggo tra le righe purtroppo è che l'Inps ha terminato i fondi a settembre a fine agosto quando poi l'anno scorso le aveva finite a dicembre questo la dice un po' lunga e dà un po' quello che è un indicatore su quello che è l'aggravio del disagio sociale che si sta vivendo chiaramente a livello nazionale per cui riteniamo che possa essere un tema condiviso dal Movimento 5 Stelle e quindi apprezziamo e ringraziamo il Partito Democratico per aver portato all'attenzione quella che è una situazione che è loro presente eventualmente sul nostro territorio. Grazie. Altre interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Toti? No, anche a me sembra una mozione molto utile e comunque ecco il fatto, se vogliamo, positivo nella negatività purtroppo della situazione odia e nel fatto positivo è che Roma Capitale possa fare richieste di accreditamento fino a fine anno. questo è un discorso perciò recuperabile rispetto a evitare danni alle giovani famiglie presenti nel nostro territorio perciò la ritengo utile e noi come lista popolare la votiamo a favore. Allora, finiti gli interventi? Non vedo altri interventi, possiamo passare all'espressione di voto? Benissimo. Allora, no, non c'è stata richiesta... Benissimo, allora sì. Allora, procediamo con ordine. Se continuiamo gli interventi, allora lasciamo la parola al consigliere Giuliano per il suo intervento. Sì, il mio era più, diciamo, di maggiore chiarezza nel senso che è ovvio che questo municipio, come tutti quelli del Comune di Roma ha funzioni un po' diverse dall'amministrazione centrale ci troviamo spesso e volentieri a sobbarcarci questioni, argomenti che sono un po' centrali è vero che però da qualche parte comunque la segnalazione deve arrivare quindi se a noi arriva dal territorio, io l'ho sempre detto questo lo dicevo anche quando c'era come presidente Medici l'ho detto quando c'era la Fantino, lo continuo a dire adesso che c'è la Lozzi cioè il municipio anche se non è direttamente competente però deve, ha il dovere di stare a fianco della gente quindi se la questione emerge dal territorio e qualcuno è riuscito a catalizzarla e quindi a farne una richiesta utile a tutto questo consiglio e quindi agli assessori ha aggiunta la presidente è normale che questo deve avvenire ed è utile pensavo che avesse già qualche risposta in merito quindi era inutile che volevo intervenire perché era meglio sentire lei però se questo ancora deve avvenire noi non possiamo far passare le cose sopra la nostra testa quindi dobbiamo essere capaci di gestire alcune situazioni che ci competono cercarle di argomentarle e non subirle e quindi questo è uno di quei momenti che anche non avendo una responsabilità diretta noi però possiamo fare la parte diretta nel chiedere, nel rapportarci, nel confrontarci perché giustamente qui parliamo di competenze ovviamente centrali di leggi ovviamente anche nazionali che di riferimento vanno a cascata e penso che chi pensava di farci conto e oggi non ha ancora risposta è normale che possa essere un po' adirato per cui noi dobbiamo fargli capire che il piccolo municipio territoriale è come si dice funzione delle loro aspettative e quindi possiamo dargli una mano per avere la risposta quindi questo per noi è fondamentale e quindi siamo d'accordo ovviamente con il PD che oggi diciamo si trova, fa l'unplane due su due e quindi siamo contenti di questo, va bene così, grazie Allora, se non ci sono altri interventi c'è l'intervento del consigliere Ciancio, la prego Grazie Presidente, volevo tranquillizzare che non è un plan del PD è una questione importante per le mamme e naturalmente per qualcosa che ci contavano il municipio quindi è in attesa da parte del Dipartimento dell'elenco dei beneficiari si tratta solo di questo perché non è che le mamme percepiscono il bonus direttamente lo possono scontare dalla retta che pagano nei nostri nido, nelle nostre scuole quindi ci sembrava un atto dovuto e importante per questo ringrazio la sensibilità di tutti quelli ma soprattutto di quelli che hanno capito la problematica della questione cioè il Comune di Roma deve accreditarsi presso l'Inps tutto questo e tutta questa la storia e non l'ha fatto sinora sarà stata una svista, sarà stata come dire una questione di cassa, di liquidità però come sempre diciamo in Commissione Scuola e proprio mi riferisco al Presidente della Commissione Scuola che è sempre così preciso non è generica una mozione si fatta cioè se voleva altre notizie si potevano avere benissimo prima perché questa è una questione che parte da un po' da lontano quindi io ringrazio per la sensibilità comunque rispetto alla problematica e mi auguro che venga fatta immediatamente l'accreditamento presso l'Inps e possono essere erogati noi fondi mandare la distinta dei nominativi dei bambini che rispetto all'Ise presentate possono avere lo sconto su questo bonus che verrà dato dall'Inps grazie Sì ci sono altri interventi? Allora se non ci sono interventi passerei alle espressioni di voto dichiarazioni di voto ci sono? Consigliere Giuliano? Sì facciamola visto che grazie Presidente no quando dicevo un plane lo dicevo caffetto nel senso che oggi stiamo d'accordo quindi e chi la porta la porta poi no le cose si votano a differenza dell'altra volta che non avete insomma votato voi però va bene uguale noi ci siamo quando le cose sono giuste non guardiamo faccia a nessuno e quindi siamo puntuali per dare il nostro contributo era in questo senso era in modo simpatico per dire che oggi voi avete portato due argomenti che hanno fatto centro e quindi vengono votati a ragione insomma siamo favorevoli Consigliere Giuliano ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Totti Io penso che su temi fondamentali come questo e oggi vedo con favore che si riscontra l'unità di tutte le forze politiche io l'ho detto anche nel passato e mi sembra qualche volta ci sono anche riuscito rispetto a temi forti è importante l'unità di questo Consiglio proprio per dare maggiore forza a chi poi deve essere delegato da noi per rappresentarsi nelle sedi nelle quali praticamente noi non possiamo esprimere una nostra volontà abbiamo chiesto più volte il decentramento su materie decentrabili al municipio noi abbiamo detto sempre che tutto quello che può essere decentrato deve essere decentrato al nostro municipio però lì dove non abbiamo possibilità di decentramento perché ancora purtroppo anche se vedo ecco una certa volontà io spero che poi non sia solo a parola ma anche dei fatti della maggioranza a livello comunale ci sia realmente una volontà di iniziare un decentramento che poi non c'è mai stato dal 2000 quando abbiamo fatto quando sono stati fatti i primi tentativi perciò rispetto a questo noi ci auguriamo ecco sempre che ci sia rispetto a temi forti del territorio che interessano fortemente i cittadini ci sia l'unità di tutte le forze politiche per come oggi perché poi questo che noi votiamo abbia maggiore forza per poi arrivare a soddisfazione Sì consigliere Abbiondo Sì grazie presidente grazie grazie a tutti i colleghi chiaramente il partito democratico vota favorevolmente avendo presentato la mozione e ringraziamo tutti gli altri gruppi per l'attenzione dimostrata ci aspettiamo chiaramente dall'assessore che ringraziamo per essere in aula dalla presidenza e da questa maggioranza diciamo di fare da pungolo seriamente rispetto a questa amministrazione perché vi ricordiamo stiamo parlando di un diritto riconosciuto e finanziato dallo Stato che in questo momento il Comune di Roma sta disattendendo grazie consigliere Guido grazie presidente allora il momento 5 stelle voterà a favore c'è un'altra cosa che mi preme dire cioè che da quando è nato il momento 5 stelle ormai qualche anno forse la prima cosa anche se non è trasparsa molto si media è che il momento 5 stelle va sui temi cosa che è già stata detta che vengano da destra a sinistra al centro da sopra e da sotto l'importante è che si faccia qualcosa di buono per la cittadinanza ho detto questo noi siamo ben volenterosi a votare favorevolmente questa proposta come anche abbiamo fatto con quella precedente perché sono temi importanti per il territorio e sono anche contento che questa volta il partito democratico abbia portato dei temi che non siano un misto di tutto e non siano palesemente invotabili come altri atti portati in precedenza in questa seduta di consiglio e quindi di questo sono ben lieto e sono anche ben lieto anzi qui sono anche qui sono un po' meno lieto e faccio riferimento ad esempio alla mozione del consigliere Giuliano dello scorso consiglio anche quello era un tema è assolutamente centrale e il partito democratico ha lasciato l'aula ha la spicciolata ma ha lasciato l'aula siamo in dichiarazione di voto la dichiarazione di voto dura tre minuti e l'ho detta come prima frase consigliera Vitrotti e quindi quello che si può votare noi lo votiamo da tutte le parti l'importante è che siano utili grazie passiamo quindi alla votazione dell'atto favorevoli oh oh per fortuna che è spento ho la suoneria completamente abbassata benissimo anche quest'atto votato all'unanimità e passiamo quindi adesso al terzo punto all'ordine dei lavori di oggi ed è la proposta di deliberazione avente ad oggetto istituzione albo e regolamento dell'albo delle associazioni movimenti e organizzazioni di genere del municipio Roma VII culturali operanti nel territorio del municipio non so come è stata scritta questa proposta di deliberazione aiutatemi allora istituzione albo regolamento dell'albo delle associazioni movimenti e organizzazioni di genere del municipio Roma VII culturali operanti nel territorio del municipio Roma VII sì allora la leggo direttamente dalla delibera allora è identica perfetto è un refuso sì 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 è un refuso per questo motivo per cui si ferma al primo municipio VII bene allora passiamo quindi alla presentazione dell'atto chi vuole benissimo consigliere principato la facoltà di parola presidente colleghi consiglieri lo schema che sottoponiamo oggi all'approvazione di questo consiglio è relativo all'istituzione di un albo delle associazioni movimenti e organizzazioni per le pari opportunità e la salvaguardia delle differenze di genere operanti nel nostro municipio questo documento nasce dall'esigenza di avere contezza delle realtà sul nostro territorio che si occupano di determinati temi in vista poi di eventuali coinvolgimenti in attività di iniziativa del nostro municipio quest'otto ha seguito l'iter previsto ottenendo quindi il parere favorevole della direzione socio-educativa in ordine alla regolarità tecnica la coerenza con i documenti di programmazione di Roma Capitale espressa dal direttore del municipio e il parere favorevole della commissione 4 competente sul tema oggi questo documento arriva all'attenzione del consiglio con lo scopo di riconoscere e valorizzare il ruolo di quelle associazioni movimenti e organizzazioni che operano proprio per la diffusione della cultura della parità di genere sul nostro territorio il documento prevede tra le altre cose la costituzione di un'assemblea delle realtà appena citate presieduta dall'assessore alle politiche sociali del municipio che si riunirà almeno una volta all'anno con funzioni consuntive di coordinamento e promozione collegate alle linee programmatiche generali l'istituzione di quest'albo verrà pubblicizzato con un apposito avviso e le associazioni interessate dovranno produrre quindi la documentazione e apposita documentazione e curricula il provvedimento da votare contiene al suo interno in allegato il regolamento dell'albo delle associazioni movimenti e organizzazioni di genere che ne disciplina l'istituzione e il funzionamento il regolamento prevede la suddivisione dell'albo nelle seguenti sezioni tematiche salute e attività sociosanitarie cultura sport integrazione lavoro formazione ed orientamento professionale violenza di genere legalità e cultura del rispetto le associazioni ammesse alla richiesta di iscrizione devono avere sede o operare regolarmente all'interno del settimo municipio o del comune di Roma in alternativa possono richiedere di partecipare le associazioni movimenti e organizzazioni a carattere nazionale e regionale con sede però in ambito municipale o comunale all'interno dello statuto o nell'atto costitutivo le realtà sopracitate devono essere espressamente previste assenza di scopo di lucro elettività e gratuità delle cariche associative criteri di ammissione ed esclusione degli associati e di loro diritti ed obblighi l'iscrizione come nel passato avverrà tramite apposito modello predisposto dal municipio il direttore dell'area socioeducativa avrà l'onere di verificare i requisiti e determinare quindi l'iscrizione degli eventi diritto pubblicare il relativo elenco e inviare quest'ultimo alla presidenza e alle commissioni consigliari competenti per materia e attraverso un atto determinativo aggiornare l'albo con cadenza annuale eventuali variazioni nel corso del tempo avvenute sullo statuto dell'associazione del movimento dell'organizzazione dovranno essere comunicate entro tre mesi al direttore dell'area socioeducativa che in quel caso andrà a verificare la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione l'albo quindi sarà appunto revisionato e rinnovato ogni anno dagli uffici municipali incaricati questo per consentire anche alle nuove realtà di iscriversi e a quelle esistenti di rinnovare la propria adesione la cancellazione d'ufficio dall'albo disposta con determina dirigenziale e comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento è prevista in caso di perdita anche solo di uno dei requisiti necessari in questo caso si considerano risolti eventuali rapporti convenzionali in atto oggetto del presente regolamento l'elenco potrà essere pubblicato anche con l'ausilio di mezzi informatici ed in ogni caso presso l'albo pretorio del municipio gli iscritti all'albo municipale potranno essere ascoltati su argomenti specifici dalle competenti commissioni consigliari secondo il nostro regolamento municipale le convocazioni delle commissioni competenti dovranno essere inviate alle associazioni organizzazioni movimenti iscritti che abbiano nei propri fini statuari l'argomento dell'audizione gli iscritti all'albo potranno chiedere di essere ascoltati dalla commissione competente previo domanda scritta al presidente di riferimento il quale comunicherà alla richiedente l'occasione più idonia per l'audizione questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione il municipio informerà i cittadini circa l'attivazione dell'albo attraverso il sito municipale successivamente comunicherà attraverso bando pubblico le modalità di iscrizione grazie ci sono interventi non ci sono interventi bene se non ci sono interventi passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto consigliere Cercuoni Catelli d'Italia voterà favorevolmente ritiene sia essenziale un maggiore allargamento del insomma di quanto avviene all'interno del municipio sia per la trasparenza per il coinvolgimento dei cittadini e di una partecipazione attiva e soprattutto a quei cittadini che si sentono rappresentati all'interno di gruppi associativi e di associazioni rinnoviamo come gruppo consigliare la necessità di portare avanti e di aggiornare anche gli albi che sono già in essere quindi quelli delle associazioni socioculturali che attualmente sono fermi in fase di valutazione ringraziamo in questo caso per la precisazione sull'iter per come avverrà appunto tutto il processo di approvazione e di inserimento delle commissioni e ci auguriamo che questo processo venga esteso anche agli altri albi già presenti in municipio grazie consigliere grazie grazie presidente per formulare l'espressione di voto naturalmente il PD rispetto alla delibere anche il regolamento elaborato poi in commissione vota favorevolmente augurandosi quindi come diceva la consigliere che mi ha preceduto di dare più spazio a tutto quello che esiste e veramente molto quello che esiste nel nostro territorio accogliendo quindi queste modalità per l'iscrizione sollecitiamo anche l'apertura di tutti gli albo che sono in essere presso il nostro municipio compreso quello dei fornitori che oggi abbiamo visto anche in commissione quindi un allargamento sempre di quello che può essere la partecipazione è importante e quindi il PD non si sottrae vota compiutamente questo atto grazie sì consigliere principato allora io ringrazio Fratelli d'Italia e il PD per questo voto favorevole a questa proposta che non ha altro che l'obiettivo di fare un po' di chiarezza su quello che è la situazione all'interno del nostro territorio mi fa piacere che in questa sede si sia votato favorevolmente anche se avrei preferito sinceramente che il PD fosse stato presente nella commissione per la quale abbiamo espresso parere su questo schema di liberazione di deliberazione ma purtroppo è andato via prima era assente e per quanto riguarda Fratelli d'Italia sinceramente sono favorevolmente sorpreso perché proprio la consigliera Cerconi che è membro commissario della commissione 4 che ha espresso il parere in seduta di commissione sia astenuta quindi sono contento che abbiate che abbia cambiato idea grazie naturalmente il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente grazie sì immagino richiamo al regolamento 8 regolamenti ci sta ci sta ci sta tutto semplicemente per spiegare una cosa è normale che quando venga presentato un atto si possa in sede di commissione astenersi valutare l'atto valutare anche come è scritto l'atto e le procedure per poi ritenersi favorevoli o contrari non c'è nulla di strano in quello che è successo nella commissione a cui ero presente e mi sono astenuta per valutarlo in consiglio ed aggiornarmi anche con i colleghi che ovviamente non sono nella commissione grazie ci sono altre dichiarazioni di voto il consigliere Totti sì noi associazione e movimenti accolgo favorevolmente come stavo dicendo questa istituzione di questo albo e del regolamento ecco voglio però ricordare che quando io partecipai alla prima commissione della commissione alla prima riunione della commissione ancora c'era questa differenza fra ex nono ex decimo allora il nono non sapeva del decimo e il decimo non sapeva del nono io voglio dire finalmente se arriva a un discorso di unificazione c'è il nuovo direttore ecco è importante che se arrivi direttore a un discorso più forte rispetto all'unificazione perché noi ancora stiamo a compartimenti stagni questo appartiene all'ex nono questo appartiene ex decimo negli uffici nei servizi un po' tutto quanto dobbiamo quello che non è stato fatto negli ultimi anni ultimi tre anni purtroppo arrivare fortemente e arrivare anche con velocità io penso a un discorso di riorganizzazione per avere una unitarietà rispetto a quello che noi eroghiamo nel nostro municipio tutto quello che riguarda i cittadini del nostro municipio rispetto ai servizi che io spero non siano più servizi che svolge Villa Lazzaroni o servizi che svolge a compartimenti stagni e sì Villa Lazzarone rimane chiaro sono ho incominciato la mia attività politica lì a Villa Lazzarone come consigliere però ecco è importante che ci sia una guida unitaria rispetto a tutto quello che riguarda il nostro settimo municipio bene passiamo quindi alla votazione favorevoli sì sì benissimo anche questa deliberazione benissimo viene approvata all'unanimità procediamo quindi con la votazione la votazione sì no dobbiamo l'immediata eseguibilità di questa dobbiamo fare assolutamente sì ha ragione ha ragione ha ragione sì mi fanno notare qualcosa che è molto importante l'immediata eseguibilità quindi votiamo subito per in tal senso i favorevoli benissimo anche questa approvata all'unanimità allora prima di passare al punto 4 che è l'approvazione del verbale numero 17 di un consiglio precedente io direi di valiare sì io chiederei a nome del gruppo di maggioranza qualche minuto di sospensione per valutare la mozione che il partito democratico ha presentato quest'oggi in consiglio secondo l'ex articolo 58 grazie sì dunque come da regolamento e come già è successo altre volte concediamo la sospensione breve per valutazione della mozione in esame i consiglieri sono pregati di riprendere posto così riprendiamo la seduta allora sì sì prima di passare alla discussione della mozione io vorrei tornare di nuovo all'ordine dei lavori di oggi perché vorremmo finire prima eseguire l'ordine dei lavori così come era stato presentato quindi con l'approvazione del verbale che in ogni caso è un punto che richiede veramente poco e lasciare poi spazio casomai alla mozione che viene discussa come punto ultimo all'ordine dei lavori tra le varie eventuali non credo penso che sia una mozione corposa quindi passiamo al punto 4 il punto 4 è l'approvazione verbale numero 17 relativo alla seduta di consiglio del 13 ottobre 2016 bene il verbale è stato messo a disposizione di tutti i consiglieri come al solito e come da regolamento se non ci sono obiezioni si ritiene approvato ci sono obiezioni? no quindi il verbale numero 17 della seduta del 13 ottobre si ritiene approvato passiamo poi all'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi ed è questa mozione urgente ex articolo 58 da nostro regolamento attuale che è la richiesta urgentissima per il prolungamento della fascia oraria di accensione di tutti gli impianti termici delle scuole di ogni ordine grado del municipio settimo gestite dal dipartimento simo e anche per questa mozione per questo atto lascerei la parola a chi avrà l'incarico di illustrarla ok consigliere Ciancio a facoltà di parola grazie presidente ringrazio di aver accolto come discussione mozione urgente questa mozione presentata veramente il problema è nato ieri perché malgrado faccio parte della commissione scuola e naturalmente gli impegni rispetto all'ordine del giorno sono notevoli forse un po' tutti abbiamo trascurato questo aspetto forse l'ho trascurato pure io a casa perché siamo anche noi in una situazione di emergenza freddo e quindi ieri ho potuto notare costatare di persona che in molte scuole in particolare alcune scuole esposte anche male i bambini lamentavano questa questa necessità di un benessere che dovremmo garantire all'interno delle scuole di tutti soprattutto poi nei nido dei bambini piccoli ho visto mamme che prendevano i bambini per portarli via oppure volevano sapere se funzionavano per capire se portarli o meno perché la situazione soprattutto negli edifici con molto grandi dove il calore si disperde grosse vetrate la situazione diventa veramente incresciosa poi questa abitudine consolidata o forse una rituale buona abitudine quando ci sono temperature alte va bene ho notato che una scuola aveva questo problema grosso quindi la mattina c'erano i bambini che stavano veramente male ho cercato di telefonare al numero verde insomma al dipartimento però non è una situazione di un plesso di una scuola di un sito la situazione è generica un po' dappertutto stamattina anche i giornali ne riportano il disagio dei genitori quindi il partito democratico ha ritenuto importante dare mandato alla presidente all'assessore competente affinché prolungano questo tempo di funzionamento degli impianti e la direttiva emanata ad ottobre non può essere come dire elemento utile perché se ci siamo ritrovati in queste condizioni vuol dire che non ha funzionato perché sul sito del comune di Roma c'è una una informativa che dice ogni dirigente scolastico può chiedere autonomamente il prolungamento dell'orario di funzionamento io ritengo che il risparmio va bene però non sono queste le modalità sia se sono fatte dalla passata consigliatura sia adesso quindi allargare il tempo soprattutto nelle fasce pomeridiane ma insomma io invito tutti quanti voi a recarvi in un bagnetto qualsiasi ne prendiamo uno se i bambini riescono ad andare al bagno che con l'attuale situazione con le modalità d'accensione che il dipartimento Simo sta attuando non si possono recare neppure al bagno di questo si tratta si tratta di un'emergenza certo qualcuno mi ha detto ieri ma quando andavo a scuola non c'era neppure i termosivoli bene i tempi sono cambiati io ritengo che le conquiste che abbiamo attuato tutti per la scuola debbano essere rispettate per questo chiediamo ma non per il municipio settimo è un impegno su tutta Roma cioè non può essere otto che poi otto vuol dire sino a quando va a regime la caldaia sono le nove vuol dire nove undici se spengono alle dieci e mezza diventano due ore neppure nel condominio come dire più povero si attuano queste condizioni di risparmio ci sono delle scuole forse esposte bene dove forse si sentono di meno queste problematiche ma da quello che mi risulta da via delle cave alla Garibaldi e a tutte le scuole che ho potuto visitare la problematica è emersa non vi racconto quindi dei nidi di quello che succede nei nidi dove bambini infreddoliti hanno abbandonato il posto quindi proprio per evitare questo disservizio noi invitiamo la Presidente e l'assessore competente affinché si attivano urgentemente a provvedere all'allargamento della fascia oraria di accensione di tutti gli impianti termici e a un puntuale controllo degli impianti malfunzionanti perché poi c'è un altro aspetto molti degli impianti sono da revisionare perché la temperatura dell'acqua non raggiunge neppure i 60 gradi quindi abbiamo degli elementi radianti che arrivano forse a 60 gradi quindi bisogna ricontrollare e non perdiamo di vista anche l'aspetto delle scuole superiori che visto l'area metropolitana sono sempre in carico al Comune al Comune di Roma e quindi al Simo o forse c'è qualche scuola che esce fuori da questi schemi io invito pertanto l'assessore ad essere celere come la sensibilità della professione che fa richiede grazie sì 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 certo allora lascerei la parola all'assessore no scusate visto che non mi capita di intervenire spesso qualche problema tecnico quindi in questo sì do subito un intervento perché in realtà vi informo già che sono due giorni che mi sono attivate in effetti non solo come la sensibilità di mamma e di insegnante ma anche come l'esperienza personale perché insegno in una scuola superiore che è della provincia di Roma non di Roma però ieri i miei ragazzi hanno fatto sciopero cioè sono stati fuori di scuola proprio perché i termosifoni erano spenti e questa mattina devo dire in effetti i termosifoni nella mia scuola erano accesi l'assessore a Capitolina Baldassarre già da martedì mi ha detto che si era attivata presso il Dipartimento Simu per chiedere che la fascia oraria fosse prolungata la fascia oraria prevista in quella comunicazione apparsa il 18 ottobre è 7.11 per gli asili nido e per le scuole di ogni ordine grado ed è assolutamente assurda insomma non ci sono altre parole soprattutto però c'è da dire una cosa non è assurdo il fatto invece di chiedere ai dirigenti e funzionari educativi ai dirigenti scolastici di esprimere le loro personali esigenze perché intanto per quanto riguarda gli istituti comprensivi essendo scuola statale quindi avendo l'autonomia scolastica ovviamente hanno delle esigenze particolari soprattutto in ordine alle attività extracurricolari che chiaramente possono variare da scuola a scuola quindi è giusto che effettivamente comunichino le loro esigenze ma naturalmente dando per scontato che l'esigenza primaria è quella di garantire il riscaldamento durante l'orario curricolare e non mi risulta che ci sia nessuna scuola che alle 11 o alle 12 chiuda l'attività curricolare quindi questo è fuori ogni dubbio inoltre dopo aver ottenuto diciamo la rassicurazione dell'assessore capitolina ho anche chiamato personalmente non solo i numeri verdi eccetera che naturalmente insomma erano quelli a disposizione degli operatori ma anche l'ingegner di Tosto che è proprio il responsabile dell'accensione degli impianti di riscaldamento che mi ha garantito che per quanto riguarda il controllo degli impianti di riscaldamento effettivamente io avevo chiesto che venisse fatto prima dell'accensione dei termosifoni mi ha detto che il dipartimento Simu quest'anno si è trovato in difficoltà nel procedere per tempo ad una ricognizione degli impianti di riscaldamento per una serie di problematiche interne che non mi ha potuto spiegare direttamente io comunque ho chiesto anche un appuntamento perché vorrei a beneficio del futuro visto che per il passato ormai non è possibile intervenire diversamente cercare di approntare dei meccanismi che impediscano di ritrovarsi in questa situazione inoltre ho scritto verba volant scritta manent ho scritto proprio all'ingegner di Tosto segnalando intanto i malfunzionamenti che mi erano arrivati perché come assessore municipale mi ero premurata di scrivere ai dirigenti scolastici e ai funzionari educativi di tutte le scuole chiedendo loro di darmi contezza delle richieste delle esigenze particolari in modo tale che potessi sostenerne le eventuali difficoltà nell'ottenimento delle richieste inoltre ho anche sottolineato al Dipartimento Simu che il 20 domenica 20 c'è il rinnovo degli organi collegiali in particolare i consigli di istituto si rinnoveranno domenica 20 e lunedì 21 e quindi domenica 20 devono provvedere assolutamente a che sia per il personale che per i seggi elettorali che insomma saranno impegnati durante l'intera giornata ci sia un adeguato riscaldamento quindi individuare le strutture ad oggi io poi grazie ai mezzi di comunicazione contemporanea diciamo creato dei collegamenti diretti sia con i dirigenti scolastici che con le funzionarie Poses le funzionarie Poses per i niti mi hanno detto che l'orario è già stato prolungato fino alle 12 e 30 ed è comunque un orario insufficiente per cui continuerò a tenere sotto controllo tutta la situazione questo insomma solo per rassicurarvi sul fatto che a prescindere dalla mozione urgente comunque c'è già in atto un presidio e un monitoraggio puntuale della situazione grazie ci sono altri interventi consigliere abbiondo grazie presidente grazie sinceramente assessore per queste spiegazioni insomma la mozione era urgente e soprattutto diciamo nel frattempo c'era da aggiungere anche un'altra questione che lei ha citato ovvero che sul sito del comune di Roma in questo momento è esplicitato che per richiedere l'allungamento dell'orario dell'apertura dei riscaldamenti bisogna fare esplicita richiesta allora innanzitutto diciamo come giustamente ha detto lei noi ci aspettiamo che un'istituzione pubblica qual è quella per eccellenza delle scuole della nostra città debba garantire il servizio a prescindere dalle richieste specifiche secondo poi qualche genitore ci faceva notare proprio oggi appunto che devono fare loro ognuno deve accertarsi che la propria scuola abbia fatto richiesta entro il termine del 30 novembre che tra dieci giorni diventerebbe una cosa assurda quindi da questo punto di vista diciamo le chiediamo uno sforzo in più per fare in modo che la sua sensibilità sia anche quella del comune di Roma che invece in questo momento non sta dimostrando altrettanto attenzione grazie ci sono altri interventi no consigliere Giannone si ringrazio la l'assessore per la sua consueta proattività su temi importanti e concordiamo anche noi sul fatto che il risparmio non può passare sopra la pelle dei bambini pertanto concordiamo sulla necessità di bypassare diciamo questi vincoli finanziari quando si tratta di salute di bambini di minori e comunque di questo genere per cui sostanzialmente pur essendovi un'indicazione del dipartimento riteniamo sia importante diciamo che l'orario non sia su richiesta ma che debba essere in qualche modo un dato di fatto una certezza oltretutto devo dire che il DPR 74 prevede comunque sia che tutte le limitazioni siano dalle limitazioni siano escluse proprio i nidi e le materne quindi ci troviamo d'accordo su questo tema grazie consigliere Giuliano grazie presidente io partirei tra fatto dell'intervento dell'assessore perché sta diventando un po' luogo comune sono due tre volte che la sento che lei quando interviene ovviamente mette in evidenza quello che è il problema ma si preoccupa di quello che possa essere la volta successiva questa è una cosa che a me fa piacere nel senso che uno si trova ovviamente a dover combattere l'emergenza ma cercando poi di non far sì che sia sempre in emergenza per cui cercare di prendere i capisaldi e dire ok oggi cerchiamo di sistemare allora questa è una cosa molto positiva le dico questo perché ovviamente è centrale l'argomento ma non riguarda solo le scuole il discorso del riscaldamento riguarda anche gli alloggi comunali quindi di residenziali dove a porte capita che appunto le caldaie l'accensione lo spegnimento insomma crea problemi per cui leggevo prima su facebook che c'è un problema sulla tiburtina per esempio di 120 famiglie che hanno un problema che la caldaia non è stata aggiustata e quindi stanno ma è residenziale non è scuola però è un ragionamento che quello che servirebbe partendo dal piccolo e quindi partendo dalla piccola istituzione municipale ma che possa essere di esempio anche ovviamente a Roma che è complessa che si lavori per l'emergenza ma si lavori anche per l'organizzazione perché quello che è successo oggi non debba succedere domani e a volte ci rendiamo conto che basta poco perché è come anche il cambio di rotta è il cambio del dirigente del personale una riva non conosce a volte si creano questi buchi diciamo di organizzativi che per l'amor di Dio non è colpa di nessuno però poi i risultati sono quelli che sono e quindi si crea il problema quindi questa è una cosa che serve quindi le emozioni quando vengono portate e danno un indirizzo questo è l'esempio che noi abbiamo ascoltato che da parte appunto della Giunta c'è un'attenzione anche nella fase organizzativa quindi in quello che sarà domani questo volevo dirlo che a noi fa piacere perché rende comunque un lavoro non rende vano se oggi sei stato tra virgolette buggerato del fatto che non hai avuto l'opportunità la prossima volta certo che il prossimo anno se ancora non parti gli scaldamenti diventa un problema ok grazie sì consigliere Totti sì mi sembra importante questo che stiamo questo di cui stiamo discutendo l'attenzione rispetto all'accensione il controllo poi del anche degli impianti non funzionanti mi sembra esaustiva l'indicazione che ha dato l'assessore mi sembra molto precisa e attenta rispetto a quello che riguarda l'ho sentita anche altre volte rispetto a questo però ecco voglio dire anche un'altra cosa oggi l'ho notata io penso anche per gli impiegati del settimo municipio si debba andare il martedì e giovedì a un allungamento perché oggi ad esempio a luna a mezzogiorno erano chiusi i termosifoni ho visto e rispetto a questo dico importante voglio dire voglio dire a parte che vedo tutti i vestiti ben pesanti forse rispetto a questo però si potrebbe pure pensare anche rispetto al martedì e giovedì a un allungamento anche per i nostri uffici dell'orario di attivazione comunque sono favorevole chiaramente ci sono altri interventi consigliere Principato grazie presidente colleghi consiglieri nella mia brevissima e prima esperienza da consigliere municipale quello che ho notato un po' dappertutto è la mancanza della semplificazione delle procedure la mancanza delle informazioni i referenti chi si occupa di che cosa dove lo fa a quale numero di telefono risponde cioè la difficoltà ricorrente è capire spesso chi fa che cosa ed è una cosa allucinante passatemi il termine perché quando poi ci sono delle emergenze delle necessità impellenti è difficile anche rintracciare il responsabile quindi noi da subito ci siamo attivati anche a lavorare su questo ecco per esempio scusate esco fuori tema lo schema di deliberazione sulle associazioni può sembrare una banalità però diciamo è anche un modo per mappare le cose per capire chi fa che cosa eccetera quindi dovremmo lasciare un attimino da parte tutta questa burocrazia amministrativa e ricordarci che lavoriamo per i cittadini quindi dobbiamo essere in grado di fornire risposte immediate e semplici soprattutto senza troppi iter da seguire ma fornendo concretamente un feedback immediato quindi come dicevo manca spesso e volentieri una mappatura dei servizi e in questo caso insomma che stiamo trattando un argomento della massima delicatezza stiamo parlando di bambini deve essere d'esempio per il futuro cioè in situazioni di questo tipo dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter intervenire tempestivamente grazie ci sono altri interventi no passiamo quindi alle dichiarazioni di voto ci sono dichiarazioni no non ci sono dichiarazioni ah non l'avevo vista mi scusi grazie era solo per dire che il partito democratico naturalmente avendo presentato la mozione favorevole mi sarebbe piaciuto rispondere al consigliere che mi ha preceduto ma magari ne parliamo un'altra volta fuori dall'orario bene ci sono altre dichiarazioni di voto consigliera Cercuoni Fratelli d'Italia voterà a favore e niente ci sembra una richiesta più che accettabile gradiamo e siamo contenti del lavoro che sta facendo l'assessore ci auguriamo che visto che il lavoro viene portato avanti da quanto ho capito non da due giorni ma è una cosa che queste cose vengano riferite anche in commissione grazie ci sono dichiarazioni consigliere Guil facciamo così prima abbiamo dato spazio al più giovane adesso rispettiamo l'anzianità non se la prende consigliere Toti io sono felice eh no io sono una persona felice benissimo benissimo mi sembra che sulla giustezza della cosa siamo tutti d'accordo vedo oggi veramente vedo oggi veramente che c'è un trionfo e un discorso unitario questo a me fa questo a me fa molto piacere rispetto come ho detto sui temi sui temi in questo caso urgentissimi da risolvere perciò l'ho già ribadito in precedenza voto favorevole di Roma Popolare grazie consigliere Toti e consigliere Guido grazie presidente allora io intanto dico che il momento 5 stelle voterà a favore ringrazio anche l'assessore per la disamina precisa che ha fatto voglio anche ribadire che l'assessore a meno che io non capisca male ma spero di no ha detto che ha cominciato a occuparsi della questione esattamente due giorni fa pertanto non c'era modo tempisticamente di portare consigliere Cerconi l'argomento in commissione visto che la commissione è domani ne abbiamo parlato oggi in consiglio è stato un ottimo spunto l'assessore ha chiarito sono due giorni che si occupa di questo e continuerà a farlo grazie bene passiamo quindi alla votazione ah fatto personale certo io non so se forse non mi non capisco e perché non si può fare ma ha nominato vabbè dovevo semplicemente dire che visto che l'assessore porta avanti questo argomento da tempo gradiamo una sua presenza so che è possibile che ha impegnato con la scuola solo per sapere come porta avanti queste situazioni forse non mi spiego bene quando parlo perché ogni volta dall'altra parte ripetono cosa che io non ho detto veramente parla pure quando non le serve per favore per favore rispettate l'ordine no però ha richiamato il fatto personale allora non poteva no non si può si può durante la discussione non quando si è già in fase di dichiarazione di voto per fatto personale per fatto personale quindi votazione si benissimo votazione favorevoli bene la mozione viene approvata all'unanimità 23 potenti il concilio si chiude qui il concilio si chiude qui si è già in fase non si può non si può avanti non si può Grazie a tutti